E' bello essere di nuovo qua. E' arrivato il notaio? Qui, al centro. Mi spiace, lui è molto eccentrico. La voglio. No. Perché la gente smietta di credere in Dio. Basta che tu lo ferisca. E le acque si macchieranno di sangue. E verranno gli squali. Io me ne starò qui seduto a guardare, mentre il mondo ti divorerà. La nostra priorità è di far riconsegnare l'arma Iron Man agli Stati Uniti d'America. Io sono Iron Man. L'armatura è io, siamo un tutt'uno. Al di là di ciò che pensa la gente, so esattamente che sto facendo. Ho visto che cosa hai fatto a Tony Stark su quel circuito, cavolo. Tu hai bisogno delle mie risorse. Iron Man è un pezzo d'antiquariato. La sceneggiata del pistolero solitario non è necessaria. Non devi farlo da solo. Il signor Stark esibisce narcisismo da manuale. Concordo. Spera. 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 Spera.